sei venuto a fare una polsa, un'altra polsa poi un giorno parliamo del tuo rolleggio Ferrari F430 Spyder che oggi venerdì poveriggio è thank you god it's friday in ufficio sono venuti anche loro a fare una polsa snouse sono venuti allora questa gentilmente mi fai un po' di retromarcia mi fai di questo ecco onda Italia vieni non teno qua delle scarpe da collezione snouse quelle sono le Fara e le Wierks vai bian quindi sono tutti e tre modelli di Fara e le Wierks arancio, gialle e proprio quella bianca valla tennis snouse ecco vada 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 la fantocci vada onda Italia 78 13300 km originali prima per Nice Bologna 17 Bologna la mia azienda la mia compagnia di seduzione sta a Bologna 17 è il mio numero e secondo me potevano comprarla e dove la mettiamo? in garage? in ufficio perchè magari viene il cliente fanno una riunione mancano due sedute snouse no? snouse giapponesi assembrato in Italia ma voglia di avevo 9 anni la vedevo e sognavo di averla poi a 14 anni sono usciti qui da 240 all'ora e a 16 anni nsr 625 r2 mio padre ha detto mai comprare un 125 a voi figli i depiliani in tutta casa ovunque andavano ha accesso depiliano aprivate la cravatta depiliano se ti fai promuovere con la mente del 7 e la compro una pippa a scuola tutti i 7 un 6 e un 8 roma 49 0412 un 4 milioni 3 e 20 secondo me sto male i valori contano le cose di valore anche qua più chiaro c'è un valore proprio snouse che dire te anche codis friday viva la vita il mio cliente lui pure e lui anche boh appotenoso teniamo tra di noi circolante eh perchè io la modulo l'ho comprata dal mio cliente via la life